Le torrette in tantissimi reparti manifestano un'altissima qualità, sono punti di riferimento unici in questo caso in tutta la regione e abbiamo potuto vedere incontrando i professionisti che lavorano dentro questo reparto l'altissimo livello e l'alta specializzazione dei servizi che vengono dati sia a chi si rivolge in urgenza per un trauma grave, chi per problemi importanti di natura neoplastica chi per malformazioni e devo dire che in tutti i casi troveranno qua e trovano qua una grande competenza una grandissima qualità, una squadra, devo aggiungere anche giovane, che dimostra di saper fare cose importanti un'immagine della sanità estremamente positiva, un servizio per tutti i cittadini delle Marche